veniamo allo scopo di oggi domenica 4 ottobre san francesco d'assisi ariete una domenica di grande intesa energia creativa da sfruttare per rendere la vostra attività più adeguata alle necessità amici del toro infatuazioni in vista specialmente per i maschietti del segno gelosia irrefrenabile per le femminucce entrambi i casi tutto è affidato al dialogo amici dei gemelli una volta capite le vostre manie il partner vi propone un accordo lui o lei cercherà di accontentarvi e voi così la smetterete di lagnarvi una domenica felici in due amici del cancro che siate in rodaggio o vicini alle nozze condividete principi e sogni trasmettendo i vostri ideali anche ai figli leone nonostante le premesse non facciano ben sperare alla fine questa domenica tutto filerà liscio e il vostro tentativo di pacificazione avrà davvero successo vergine permettete all'imprevisto di entrare nella vostra vita concedetevi qualche evasione sperimentate le malizie di un'avventura fantasiosa bilancia le vostre antenne captano nuove vibrazioni quindi parlatene con il vostro partner trovate le parole giuste per esprimere ciò che sentite e aiutate a comprendervi null'altro è una domenica dove ci sono buone idee amici dello scorpione grande intraprendenza il massimo lo realizzerete nella comunicazione e in tutti quegli ambienti in cui è utile essere convincenti sagittario con un look disinvolto ma allo stesso tempo elegante farete un figurone deviando l'altrui attenzione alle vostre lacune magari su alcuni argomenti capricorno con il partner è probabile che le aspettative gli stati d'animo non siano gli stessi ma se sarete pazienti l'intesa di coppia migliorerà senza dubbio acquario molte sono le tentazioni e voi cadete facilmente in contraddizione quindi la gelosia del partner non è del tutto ingiustificata in chiusura come sempre i pesci se vi sentite un po stanchi ma non volete rinunciare alla domenica con gli amici il ginseng magari sarà un ottimo energizzante